Sono tanti, vanno oltre i numeri. Il reddito ha incrociato fino a questo momento il lavoro, professor De Masi? Io credo che la domanda, mi deve scusare, non dico sia sbagliata, ma sia parziale, perché il reddito di cittadinanza è qualcosa che è nata prima di tutto per la povertà. Quindi come misura assistenziale. Non tutti i poveri sono disoccupati, non tutti i disoccupati sono poveri. C'è una parte che combacia, però man mano la discussione è slittata sempre di più dai poveri al lavoro, laddove in questo momento ci sono 2 milioni e 300 mila persone che probabilmente avrebbero stentato a mangiare, a farsi una doccia. E che invece stanno ricevendo il reddito di cittadinanza. Ma questa è una cosa grandissima. No, 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 per carina, però, professor De Masi, ricordo che non è che l'ho detto io che il reddito di cittadinanza doveva fare incrociare il lavoro. Che l'hanno detto i 5 Stelle. L'hanno detto loro, perché sennò siamo mattati. Non era una mia aspettativa. No, le dico di più. Che se lei compara il primo progetto del 13, poi il Gentiloni, poi il decreto dei 5 Stelle, poi la legge dei 5 Stelle, sempre di più il problema dei poveri è andato in sordina. Ed è diventato dominante il tema del lavoro. Ma questo è stato un autogol. E allora, qui c'è il punto. No, perché poi voglio dire una cosa. Quando ci fu la scrittura della Costituzione, si discusse se le donne dovevano avere o non avere il diritto di voto, perché allora non ce l'avevano. Ce lo ricordiamo. Togliatti votò a favore e disse questo. Alla prossima volta che si voterà, le donne voteranno e voteranno contro di noi, perché sono tutte democristiane. Ma la legge deve passare ugualmente perché è un fatto di civiltà. E questo è il tema del reddito. Allora, a prescindere se il reddito sarà a favore o meno dei 5 Stelle, comunque resterà storico che questo fatto è passato. Bene.